Siamo qui, oggi che ore sono? Saranno le tre e mezza, quasi quattro, e stiamo andando pure in centro. Io con i due paoloni, quello dai box, ecco, e quello da Coriano. Marco, grosse scarpe, poca carne. Marco, grosse scarpe, poca carne. Era la figura perfetta. Avevi pensato di vincere? Sì, perché era in testa, però mi sono stesa. Se gli dicevi di fare una curva in pieno, piuttosto si stampava nella rete, ma la faceva, ecco, uno un po' di quelli giusti. Marco, che vorrebbe andar via. Sono le ultime curve, le ultime curve per Marco Simoncelli, da Cattolica, 1987. È il campione del mondo, è il campione del mondo. Bravo! È giusto comunque fare le cose per bene, essere seri in quello che si fa, però è anche giusto non prendersi troppo sul serio, insomma. Mi dava gusto passare il tempo con lui, perché era molto serio e molto impegnato quando faceva il pilota, però per il resto era proprio un patacca, quindi faceva, era divertente stare con lui. Allora, con il mio amico di fiducia, Baffo, gli ho detto, Baffo, vieni con me perché mi devi dire com'è questa qui. Ho chiesto cosa pensavo, ho dato il benestare e ho potuto. Se non ci fosse stato il benestare, io avrei avuto una X sopra. Ma in futuro se succederà qualcosa con te, sarà un problema. Ok, io sarò arrestato. Avevo il contratto dell'Onda per l'anno dopo con il Mila, lui era il settimo cielo, forse per quello ho deciso di andarsi. Aver saputo che lui sarebbe finito così e avergli tolto la moto prima, l'avresti ucciso fuori, perché lui era un cavaliere da moto. Ora, come una magia, il numero 58 è dappertutto. Ora c'è chi si accorge di aver avuto e perso il figlio che non ha mai avuto e forse non avrà mai. Noi abbiamo vissuto 25 anni bellissimi, e questo non ce li toglie nessuno. Ora chi ha delle regole pensa che ce ne sia forse una sola che vale più delle altre. La regola per cui l'uomo ha successo, vive e sopravvive a se stesso, quando riesce a avere attorno a sé amore ed armonia. La regola di Marco.